ciao oggi preparerò una tortina ricotta e cioccolato una ricetta che mi preparava mia mamma quando ero piccolina adesso vediamo gli ingredienti 400 grammi di ricotta 100 grammi di zucchero 50 grammi di cioccolato che poi andremo a tagliare a pezzetti 150 grammi di marsala e all'incirca 100 grammi di biscotti pavesini poi dipende dalla teglia tagliamo il cioccolato a pezzetti questi piccoli vado ad aggiungere la ricotta al cioccolato che ho tagliato lo zucchero vado un po' a girare do mettere il mio marsala in un piatto prendo una teglia di queste dimensioni in modo che dopo poi l'andremo a girare vado a bagnare i miei pavesini nel marsala e li dispongo in questo modo da ricoprire la teglia vado a riempire con i pavesini anche la base sotto così in questo modo poi vado a mettere la mia ricotta dentro e adesso vado a riempire con altri pavesini la parte di sopra così in questo modo fino a ricoprirla tutta adesso vado a mettere nel frigo per un paio di ore ed ecco la nostra tortina dopo due ore adesso la giriamo nel piatto vediamo un po' e voilà spero che questa ricetta vi sia piaciuta ciao al prossimo video ciao ciao